Buonasera, buonasera a tutti e benenni di oggi e benappi di oggi sul canale YouTube di Petro Peicotto. Se siete buoni serenosi in poltrona, un'escutta buon fatto con panzia e buoni la vecchietà san mia. Questo giro credo che va a dare la sua età mannù, più che mannù, un eroico che vedi Gavino Contine, che ha lasciato i stigasa del porto in terra sarda e in Aterueburu. Sì, come possiamo sapere, Gavino Conte nasce da Silico sui 22 anni di Natale, dei sui 1.850 anni. E nasce da Sirione di Saniera a sarda e notte, da Maria Antonia Borcheddu e Antoni Contine. Borzeddi, sui 20 anni di Triulasa, dei sui 1.950 anni. E' morto a 60 anni. E' morto, quanto è narrato, che vive sempre il suo cuore e il suo sardo, che vive il simpedrato e il suo sardo. E' come entro a bollezzare, car chi ottava Gavino Contine. E si esprime, che può scrivere lezze, quando fatti di una gara poetica, che è un poeta scontinentale. Si schiede, si segui di una guardia carceraria, vedi il trivaleato a Livorno. E il suo comandante, gli dèi di Supermissi, per andare a Torino a improvvisare in poesia di Soscontinentales. E lì nelli, si incese, ti diamo su uno scomplimento, si perdesti che poniamo su un cella di rigore. Questo è un affare che hai. Comunque, lì nelli su Continentale, sempre vai dentro in italiano. Dimmi dove è venuto il primo uccello. Dimmi dove è venuto il pappagallo. Dimmi chi ha commesso il primo avallo. Dimmi chi insanguinò il primo coltello. Dimmi chi domò il primo cavallo. Dimmi chi domò il primo vitello. Dimmi chi portò la prima Soma. Dimmi chi tracciò per prima Roma. E Gavenugonte ne rispondevi subito e Franco. Dall'Africa è venuto il primo uccello. Dall'America il primo pappagallo. Fu Adamo chi commise il primo avallo. Caino insanguinò il primo coltello. San Giorgio domò il primo cavallo. Isidoro domò il primo vitello. Fu l'asino a portare la prima Soma e Romolo tracciò per primo Roma. Quindi come ti dite se Gavenugonte non si sperde di un animo. Pro chi su continentale. Pro fa che rima e poesia in ottava in italiano. Ma in ogue su continentale. Chier che ne trovo nere sempre in pasticcio e in difficoltà. Dall'Africa di Sardegna. Dimmi, poetastro di Sardegna. Quanto fumo fa la legna? E Gavenugonte ne manchi in quesi primevi. Dall'Africa di Sardegna. Pesia la legna. Pesia il cenerumo. Tutto quello che manca è andato in fumo. Come un po' scherzo però narra. Perché era così. E' un po' scherzo. Perché era grande. Il suo principe e la rima. E' un po' scherzo che era così. si chiede che ottavano a cantare questa gara di Sardegna, per esempio, Abba passata non trae mulino, Abba passata non fa che di sonoso, Deo in conca aiuto sette donoso dato da Esi Spirito Divino. E quando intende che Gavino sia un poeta, lo diceva in questo strano, e tu e burro se non compiagese testoni, facci lui o d'intervagese. Quindi dice che in testoni si attacca a me, e pensate che testoni, che è un poeta buonorveso, analfabeto, almeno in una stessa storia, poi c'è qualcuno da pensare che non è vero, che ha le zia di Iscripia, ma voi deve essere da fuori. Se non è vero, non lo sa, perché notizia nuova di se non aveva studiato, e perché ottavano pure, sia da Gavino e dei testoni, e da che sia un grande poeta, pagano con noi, dalle ottavano con noi, ma non mi hanno mandato, e li ho leggato. Chi ha detto che si chiamano la Procurata, pure su nome di chiamano la Procurata e così via. Bene, lezionatela. A beso, chi vaga e riusico a migare il giampare che è una bonte. A Gavino rispetta lo che conta, che è da poesia e smeda ricco. Dio so buono a ti scrivere in su fronte, il nome ne s'ambenato a punta e picco. Tu e i miei vagherri su trai inusicato, ma non mi giampas caso a un dado. sempre questo intestone che è sconti e rende. In ogni modo che è nato a terra, a vincere a Gavino semenente, si rubò terra all'uso di verso erare. In giannar di sinferru, di sbintrare, iscrittar da Dante seriamente. Per me si va nella ticità dolente, per me si va nell'eterno penare. Deo di fatto entrare in una porta, o in un bintra sino a gente morta. Quindi, come ti dite, Gavino Conte, noi alleziamo la definita commedia pure, è alleato con un due verso, dai Dante a prestiti in quest'ottava pure. E con un'attera, buono e fatto un vago di quest'ottava, poi passiamo adatteras pure. Accorlino che ha contene Gavino su cavallieri di quest'ottava rima, su chi ha fatto temas e stima, tanto in Roma come in Turin, come che chiesa Deo in su cammino che Zorides chiesa rende prima. Casi mi ponzo Deo a ventolare mi chien, tu lo dottu, terra e mare. Fidi Gai, fidi spandoso cantente, che ha venuto contene, fidi uno spadaccino, fidi uno che attaccaia subito, che sono stato spaventato. Come bollezzo un'attera, va a otta, guarda che ha venuto contene, questo che bollezzo come, tenete conto, a me risulta, dai babbo, dai nonna mia, mamma orto, minare, anche questo che ha cantato per tuturre. chi ha il manno, orde tanto, Gugurra, Antonio Andrea Cucca, e Atteros. E non hai a Gavino, Gavino canta sereno, sereno, che ha come erbezzo, e te ne pagubrio. Però, Borfage, come in te esistio, chi sente ir delusica suveno, e quando colpiti, colpiti in pieno, e chi siccala, sauda introsurio, e su che sutta, s'arvore aumbrato, che su mori più accardanato. Come ho con le zunattera, che sta a cantare, l'ha cantata a borsa, infatti, l'unora fin si dice, ma i te bai ha successo, l'hai invitato, dando un film pagato, tutti i poeti, si dai a suvanno, chi in chi a suvanno, poi ad un premio, che si riparte in dinari, magari in roba e mani gare, sartizza, pane, e cosa c'è, e poi andando ai poeti, suvanno, sai in chi dai suvanno. Chi, ma ma urto, minarei ad una cosa, pensate, che nonna mia, quindi, di sotticento, fine ottocento, è morta ai sui settanta, a 96 anni, e minarei ad, chi li regalai in genere, sempre una bertula tessida, e intresa bertula, avete in questo regalo, suvanno, dai li minarei ad. e se quando stanno andando, arrivato a Bozza, qualcuno, lì, i neri, li borrete, sull'Igra, questa cosa, che abbaita, che suo poeta, hanno già deciso, a chi è premiare. E a chi è premia? Bustiano Moretti, tanto, ha cantato solo un'ottava, e spiegata su barco, e lì si è andato. caros bosanoso, popolo vestante, come boscante Augusta e poi mi arreo, casoenni ducai stella errante, appoggio e punto viso non da peo. Sigantera, che tasso, ariosto o dante, so sicuro che premio non deleo, cacà beniaminos appoggiadoso, chi vim prima e che ne spremiados. dunque si dite a razza e prontezza, e prima che di nia da Gavino. E non che c'è da due, che sono famose, che la conosco in quasi tutti, ma è sempre bello a tornare a intendere questa ottava, di grande e spessore. Conte nel ficcante dell'intestone, a cantuvare da sui mammento eo, che mi erano sormanni, che in questo libro non l'ha pagato, i nuovi incantenne, finì a Giave, in seida di Giave, e contene lì in Arada. Lassa la mia su berretti gulzu, chi li gantos orverso regolados, da eonolva a ser beni disculzu, e che rescurre con cador ferrados, dammi esa mano a ti stringer sul bulzu, s'avrebbe a giugas a 40 grados. Custo dilaponato a terra al biazza, ben di sculzu e nudo di la biazza. Ma il testo neppure non finisce la sede, no? è un grande poeta, è sicuro. E della risposta è, e lì narra il testone, caro Gavino di se si sbagliato, che ha saleato una dalle ebro e nalzo, da eonolva a soenni du verratu, cuntotto sbattor ferro dea talzo, prima prunudu mi cas dispacciatu, frenadilas a limba o faulalzo, da eonon tenzo vrebbane dolore, testone gurre ca'i scurridore. Quindi, amico caro, sprovamo che in questo amusù finito, però, boscher zonale si iscrivese, provare il motivo, in Sardegna namusù, tu e' a segas bene in pala al miasa, in pede anzena largas a scorrias. E io, se me li iscrivese, a me e me lo paghete si iscrivese, va bene, si nono, andabene, si nono, bollu spiego eo, provare il motivo, si narragli agai, e bollu spiego ca' come, corriamo si narragli a pruse, si compra, non so scorretto mito, si compra, ma non so scorria, si paghiamo indomo, chintà un piccolo evento, e bollu spiego, provare, e nascito in cui, questo, questo dizio, questo mutuo e narrere, tu hai a segas bene in pala al miasa, in pede anzena, largas a scorrias. La prossima puntata, volo a pescare. Grazie, buonasera a tutti quanti. siamo arrivati, quindi, come vi ho parlato, finitì, adesso a voi, un suo canale YouTube, grazie per questa scompanzia, mandatemi, qualche ottava, vado conoscita, come vi ho parlato prima, dei sospetti al mannoso, facitemi, pregunte, si vota un buon rispondo, siete sanoso, e adiosi a tutti quanti.